L'MB-326 è stato un velivolo che mi è piaciuto tantissimo. Di tutti gli velivoli su cui ho volato era quello che non aveva i comandi idraulici, quindi erano comandi meccanici e di conseguenza, soprattutto quando si effettuava l'acrobazia, più aumentava la velocità e più aumentava la resistenza dell'aria e quindi anche spostare la cloche, tutti i movimenti sulla cloche diventavano molto più duri e molto più faticosi. Però era effettivamente un sentire l'aria, cioè un sentire effettivamente la resistenza dell'aria, quella reale. Invece con il Giro 21T i comandi erano tutti idraulici, il Giro 21T era un aeroplano estremamente più grande, più pesante, più veloce, un aeroplano estremamente istruttivo, perché era da trattare con le pinze, nel senso che occorreva essere molto attenti nelle velocità, essere molto attenti nella virata base, perché si prestava al pericoloso gistallo, uno tirava troppo e aveva una velocità inferiore a quella prevista. E così via in tutte le altre manovre, insomma, era veramente un velivolo da reparto, ecco, un velivolo estremamente istruttivo. E in sole dieci ore, dieci missioni, occorreva decollare. Su questo velivolo, come anche sulle mie B-326, poi ho superato vari esami e al termine di tutti questi esami finalmente ho conseguito il brevetto di pilota militare. È stata talmente bella e entusiasmante l'esperienza sul Giro 21T che al termine del corso ho deciso di chiedere di essere assegnato a un reparto di G91, nel caso specifico G91Y, l'ultimo arrivato dei velivoli G91 a Cervia. Questo l'ho chiesto anche perché io sono entrato in aeronautica con l'intenzione di volare nel ruolo intercettore e sull'F-104. Poi un mio carissimo amico e collega del Corso Nibbio era deceduto pochi mesi prima. Lo consideravo una persona eccezionale, bravissima, per cui il fatto che lui fosse perito mi ha turbato moltissimo. Questo unito al fatto che mi ero entusiasmato con il preoperativo fatto sul Giro 21T in cui venivano effettuate le missioni a bassissima quota e in più si sono fatti anche una campagna a tiri a Maniago sparando con i cannoni e lanciando delle bombe d'esercitazione. Ecco, queste due cose, unite alla morte del mio amico, mi hanno spinto a chiedere di non fare l'intercettore, quindi non andare sul 104, ma di fermarmi sulla linea Gino 21 perché era un velivolo il Gino 21, appunto, estremamente bello, emozionante, insomma. Per cui sono stato fortunato e sono stato assegnato a Cervia al centunesimo gruppo caccia bombardieri ricognitori dotato di velivoli Gino 21Y. Grazie. 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 Grazie.